Ciao a tutti ragazzi eccoci qua anche oggi con un nuovo video e finalmente ce l'abbiamo fatta finalmente siamo qua con la mia primissima Barbie Lux e quindi cominciamo subito con il video perché non voglio assolutamente perdere tempo la voglio subito fuori dal box Vista tutta l'esaltazione mia di oggi finalmente come vi dicevo mi è arrivata questa primissima Barbie Lux come vedete è la afro la scatola è semplicissima diciamo che quasi non sembra neanche una Barbie Signature anzi forse proprio per il fatto che è così semplice risulta Signature non lo so sembra quasi un controsenso al giorno d'oggi più fanno le cose semplici e minimal più sembrano da collezione in ogni caso il box ci fa vedere completamente la bambola all'interno a parte per questa piccola strisciolina per il resto è tutto completamente di plastica trasparente nella parte qui in basso infatti possiamo vedere il logo Barbie Signature e la scritta Lux che è il nome di questa linea i colori mi piacciono perché sono un marroncino semplicissimo sul bianco molto semplice molto minimal molto Signature lungo tutto il lato della scatola vediamo che c'è la scritta Lux niente di più molto semplice sempre marrone su bianco come anche prima sull'altro lato invece scendendo vediamo che c'è scritto Model numero 2 infatti questa è proprio la numero 2 il retro della scatola è semplicissimo nella parte superiore leggiamo il logo Barbie Lux appena sotto vediamo tutte le bambole di questa linea infatti vediamo la numero 1, la numero 2, la numero 3, il numero 4, il numero 5 e la numero 6 tutti con un mold completamente nuovo che ha anche dei nomi ma adesso non mi ricordo ma poi ve lo dirò e tutte con il corpo made to move non vedo l'ora di avere almeno quelle che mi interessano nella parte un pochino più in basso vediamo una scritta ripetuta in 900 miliardi di lingue tra cui fortunatamente anche l'italiano e soprattutto ai primi posti sono sconvolto dove ci dicono ecco a voi le Barbie look tutte pronte per essere sistemate messe in posa fotografate e pubblicate quindi queste bambole sono praticamente create per Instagram e avevo già il dubbio visto i mold e visto i look e visto un po' come appunto sono fatte adesso Mattel me lo ha confermato nella parte finale della scatola invece come al solito tutte le informazioni che non ci interessano quindi procediamo con l'unboxing ragazzi di cosa stiamo parlando? è stupenda inizio dicendovi che è meravigliosa ancora prima della recensione lo so è strano da parte mia ma ha un viso che è meraviglioso sono ipnotizzato da questa bambola la trovo bellissima, la trovo stupenda, la trovo wow, doppio wow e triplo wow ma cominciamo a vederla fuori dal box dal suo viso come vedete la sua testa è un pochino più piccola a confronto alla testa delle Barbie normali il suo mold è completamente nuovo, è la prima volta che viene utilizzato e si chiama L io lo trovo stupendo i suoi occhi come vedete sono scuri, sono un pochino allungati leggermente diciamo asiatici anche se non sono asiatici ma ci siamo capiti le sue labbra sono super carnose, sono veramente super carnose con sopra un rossetto nude ma molto perlato e la perlatura è completamente dorata anche gli occhi sono stampati più piccoli con fronto alle Barbie playline ed è una cosa che apprezzo da morire e sugli occhi troviamo un ombretto dorato quasi pesca e un altro ombretto nella palpebra fissa quindi sotto al sopracciglio un pochino più bronzo le sue sopracciglia sono super definite con un sacco di pelettini disegnati e come vediamo sulle guance indossa anche un bel po' di blush i suoi capelli sono assolutamente super afro infatti come vedete sono un ammasso di ricci ma riccissimi neri che creano questa specie di pallina che però dovrebbe essere aperta qui dove lei ha la riga per dare all'acconciatura un taglio un po' più particolare e devo ammettere che mi piace sia con questo taglio che senza anche sul retro i capelli si presentano nello stesso identico modo e addirittura il segno che si forma rimanendo in scatola come vedete era qui ma appena si muovono un pochino sparisce sono veramente perfetti e bellissimi il suo outfit è una tutina di tessuto elasticizzato nero che va semplicissima come la vedete fino alle caviglie con l'unico dettaglio qui sopra il seno ha queste due fasce che partono appena sotto al seno qui da questa cucitura e si annodano qui dietro al suo collo infatti vediamo che c'è questo nodino Mattel ha attaccato con del biadesivo questi due nastrini alla sua schiena e la cosa non mi piace tantissimo anche se ovviamente la fa rimanere più composta però adesso io vorrei staccarlo da qui e ci metterò un'eternità perché come avete visto dalla bambola viene via piuttosto facilmente ma dalla stoffa fa un po' più fatica oltre ai laccetti il vestito presenta qui sulla schiena anche del velcro per rimuoverlo perché ovviamente anche se il tessuto è elasticizzato è sagomato precisamente sulle sue forme e come vi dicevo prosegue tutto completamente uguale fino alle caviglie ai piedi però vediamo che indossa queste scarpe che ragazzi trovo forse un pochino troppo semplici perché già il vestito è semplicissimo avrei forse optato per un accessorio in più magari un braccialetto o almeno la scarpa un pochino più lavorata ma come vedete sono degli stivaletti fino sopra la caviglia con un pochino di tacco largo la punta davanti a punta e sono completamente di plastica argentata assieme a lei arriva anche il suo stand che come vedete è semplicissimo nero sotto è vuoto è fatto di plastica vuota molto molto semplice però è carino anche se forse per lei è un pochino troppo piccolo infatti se vedete ci sta veramente sopra a pelo la cosa che non mi convince ma credo che sia il mio davvero un piccolo difetto è l'astina qui dietro perché se saliamo a guardarla vediamo che è leggermente incurvata in avanti e infatti l'avambola tende quasi a cadere in avanti se vedete l'astina qui non è completamente dritta forse così si nota un po' meglio che parte da qua e fa una leggera curva andando in avanti sono comunque contento che abbiano inserito lo stand soprattutto essendo una Barbie curvy ma per fortuna lo stand lo troviamo in tutte le bambole di questa linea ma mi dispiace che abbia questo piccolo difetto aspetto ovviamente che mi arrivi l'altra Barbie looks che sto aspettando ma non so quando arriverà perché sono quasi introvabili per vedere se è questo campicolo difetto o li hanno fatti tutti così assieme a lei arriva questo pezzo di carta perché non è altro che purtroppo un pezzo semplicissimo di carta che dovrebbe essere il suo certificato di autenticità è scritto in 18.000 lingue e qui più in basso vediamo appunto Barbie Signature Black Label e in italiano vediamo cosa c'è scritto certificato di autenticità ma questo certificato garantisce che la tua Barbie collezione Barbie look è stata creata grazie alla collaborazione di designer e artisti Mattel io lo terrò dentro alla sua bustina per non rovinarlo e poi ovviamente lo inserirò nella sua scatola quindi ragazzi questa era la Barbie looks numero 2 con tutto quello che arriva assieme a lei quindi un vestito semplicissimo uno stand e un certificato qui sotto che ho lasciato lì perché è anche un pochino brutto da vedere e praticamente nient'altro ovviamente le sue giunture essendo una Barbie made to move sono tantissime ma le conoscete già è articolata al collo, alle spalle, ai gomiti con la doppia articolazione ai polsi, ha uno snodo in più al braccio appena sotto la spalla è articolata al busto, alle anche, sulle cosce la doppia articolazione al ginocchio e l'articolazione ovviamente alle cabiglie che dirvi la trovo meravigliosa ha un colore di pelle che è fantastico ha un viso che è stupendo ha i capelli che mi fanno impazzire il vestito un po' meno ma ragazzi sappiamo che Mattel ha creato queste bambole più che altro per essere appunto fotografate cambiate di vestiti per giocare con delle bambole veramente belle con dei visi proprio da Instagram e quando dico da Instagram ormai avete capito cosa intendo non so se le lascerò a questo corpo o le metterò a un corpo normale perché questo come avete visto è il corpo curvy lo trovo molto bello ma sapete che purtroppo soggettivamente il corpo curvy non mi fa impazzire preferisco il corpo normale devo vedere se in casa ho un corpo classico made to move dello stesso colore da donarle perché ragazzi credo che questo viso sia ad oggi il viso più bello in assoluto che ho mai visto su una bambola di Mattel wow doppio wow e triplo wow non posso dire altro ve la consiglio ve la straconsiglio le altre di questa linea non lo so ma a breve appunto ne arriverà un'altra non so potrei farvi uno spoiler o forse no volete uno spoiler? ma si dai ve lo spoilero dovrebbe arrivarmi la numero uno non vedo l'ora che arrivi e vi recensirò anche lei in ogni caso vi lascio come sempre qui sotto i link affiliazione per tutte le bambole di questa linea se volete acquistarle su Amazon dando anche un piccolo contributo al mio canale io spero che questo video vi sia piaciuto o che almeno vi sia tornato utile fatemelo sapere lasciando qui sotto un like e anche un commentino io ragazzi come sempre vi ricordo che sono anche su Instagram intanto vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao